Ferdinando Massimiliano Giuseppe d'Asburgo, un imperatore messicano in cerca di un sogno. Ferdinando Massimiliano Giuseppe d'Asburgo, nato a Vienna il 6 luglio 1832 e morto a Santiago de Queretaro il 19 giugno 1867, fu un arciduca austriaco e imperatore del Messico. Figlio dell'arciduca Francesco Carlo e dell'arciduchessa Sofia, Massimiliano era fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe. Fin da giovane, Massimiliano si rivelò un uomo curioso e intelligente, con un forte interesse per l'arte, la scienza e la politica. Dopo aver compiuto gli studi a Vienna, Massimiliano intraprese un viaggio in giro per il mondo, visitando l'Europa, l'Africa e l'America. Nel 1857, Massimiliano prese parte alla spedizione della fregata Novara, che circunnavigò il globo. Questa esperienza fu fondamentale per Massimiliano, che maturò un profondo amore per il mare e per le culture esotiche. Nel 1864, Massimiliano fu chiamato a governare il Lombardo-Veneto, in seguito alla morte del fratello Ferdinando Carlo. Massimiliano governò il Lombardo-Veneto per tre anni, durante i quali si sforzò di migliorare le condizioni dei suoi sudditi. Tuttavia, la sua posizione era difficile, piché era un rappresentante di un impero straniero in un territorio che aspirava all'indipendenza. Nel 1864, il presidente messicano Benito Juarez fu rovesciato dal generale conservatore Miguel Miramon. Il nuovo governo conservatore, sostenuto dalla Francia, chiese all'Austria di inviare un imperatore per governare il Messico. Massimiliano, che era sempre stato affascinato dal Messico, accettò l'offerta. Massimiliano arrivò in Messico nel maggio del 1864. Fu accolto con entusiasmo da molti conservatori, ma il suo governo fu subito osteggiato dai liberali, che erano la maggioranza della popolazione. Massimiliano si impegnò a modernizzare il Messico, introducendo riforme sociali e politiche. Tuttavia, i suoi sforzi furono vanificati dalla guerra civile che imperversava nel paese. Nel 1867, le forze liberali guidate da Benito Juarez riconquistarono la capitale del Messico. Massimiliano fu catturato e fucilato il 19 giugno 1867. La storia di Massimiliano è una storia di ambizioni, delusioni e tragedia. Massimiliano era un uomo buono e generoso, che voleva solo il meglio per il Messico. Tuttavia, la sua avventura messicana fu un fallimento, dovuto a una serie di fattori, tra cui la guerra civile, l'opposizione dei liberali e il sostegno limitato dell'Austria. Nonostante il fallimento della sua avventura messicana, Massimiliano rimane una figura affascinante e controversa. È stato un imperatore romantico, che ha cercato di realizzare un sogno in un paese ostile. La sua storia è una storia di idealismo, di sacrificio e di tragedia.